E in questo momento mi sono sentito di venire proprio a Cortina per stare vicino ai nostri associati e per programmare anche le azioni future che noi dovremmo fare naturalmente per cercare di riaprire in sicurezza almeno le strutture recettive. Si dichiarano movimento autonomo, partitico e indipendente. Nel sito e sul canale Telegram hanno mobilitato migliaia di operatori del settore azzoppato dalla pandemia. L'ultima tegola, quella del nuovo stop allo scia amatoriale, è stata pesante e oggi non è più tempo di affidare il proprio sconforto ai flash mob. Il tantam corre sul filo della protesta fiscale. Ma la protesta fiscale è una protesta che naturalmente di fatto avviene in quanto le casse sono vuote. Cioè qui nessuno sta dicendo che non vogliamo pagare le tasse. Il problema è che non riusciamo più a pagare le tasse. E la mancanza di liquidità a preoccupare maggiormente gli operatori dell'ospitalità, bar, ristoranti, alberghi associati a Mio e i ristori a tutto sono serviti tranne che a risollevare le sorti delle attività. Con il nuovo governo contatti sono stati immediatamente presi con il ministro Garavaglia. La ripartenza anche dal punto di vista sia fiscale sia naturalmente della regolamentazione delle aperture deve essere leggera, snella e deve dare la possibilità alle nostre aziende di riprodurre ricchezza. Altrimenti il famoso 13% del PIL che con l'indotto diventa il 30 con 240 miliardi di euro prodotti in generale andrà diciamo in malora. Il motore dell'economia italiana non si può arrestare, inverosimile e inaccettabile quanto accaduto alla montagna. Non si prendono decisioni dall'oggi al domani. Un nuovo lockdown che cosa significherebbe per voi? La morte definitiva di questo comparto. Si mettessero prima d'accordo e poi comunicassero agli italiani quello che c'è da fare. Altrimenti così si crea soltanto panico e disperazione negli imprenditori che ormai sono alla canna del gas.